ed eccoci qui, mamma mia, partita stoica direi che da far entrare nei migliori almanacchi direi non solo per la cassa di stasera perché c'avevo 1x Cagliari ma ragazzi mia Cagliari è stoico è la squadra degli ultimi secondi perché è passato praticamente da uno 0-2 che poi è annullato per fuorigioco ha un 2-1 incredibile, incredibile, 2-1 del Cagliari ragazzi è una squadra che non molla mai l'avevo detto io, un gruppo tele che mi ha detto state calme che la partita è lunga subito sul 0-1 purtroppo ha fatto sì un avvio molto brutto dove il Sassolo è partito soprattutto nei primi 20-25 minuti davvero al top però quando non c'è di Berardi il Sassolo alla fine il risultato è sempre lo stesso e quindi Cagliari ci fa sognare, sono contento anche per il mister Ranieri perché ha fatto i cambi azzeccatissimi e Pavoletti è sempre top, Pavoletti ragazzi è sempre top, la Padura ha fatto un gol top ma Pavoletti da mettere sul nuovo album in uscita a dicembre perché ha fatto un gol davvero strepitoso mamma mia e quindi tra l'altro Nandez adesso più che mai mi sembra De Rose mamma mia è uguale, è uguale, guardatelo mamma mia e sono contento per il mister perché il mister se merita questo e tanto altro io l'avevo detto anche quando le cose non andavano per niente bene ho detto state calmi che ve la risolve, ve la risolve perché la squadra c'è la squadra non è scarsa come quelle altre squadre che stanno indietro per me Cagliari se può le salvare perché Ranieri ragazzi c'è un'esperienza inaudita ed è capace di fare corsi strepitosi l'ha dimostrato e lo sta dimostrando adesso più che mai perché stasera ragazzi l'apoteosi incredibili quindi sono contento per tutti quanti i tifosi del Cagliari sono contento anche per me perché ultimamente la sfiga mi è persuade porca puttana e quindi stasera se va in casa con la Serie A non è tutta la Serie A ho giocato solamente sette partite ma però portava a casa che male non fa io il sogno continuo a dirlo è sempre quello di prenderla proprio tutta quanta studierò sempre di più ma stasera ragazzi è un sogno incredibile è un sogno che calcio ragazzi è strano crederci sempre da quando ho cominciato a studiare le partite tocca mettersi in te la testa perché fino al 90 fino a che infischia la fine c'è sempre una possibilità nel calcio sempre e quindi stoici c'è nient'altro da di stoico Cagliari stoico c'è la di anche che loro e noi hanno rimasti in dieci per più dei venti venticinque minuti quindi alla fin fine era quasi inevitabile il crollo per quanto ne ha resistito abbastanza e poi è arrivato il capovolgimento ribaltone chiamatelo come vi pare di un Cagliari che non molla mai e quindi stasera serata top non tanto da salute ho messo un mal di cura mi sopporta via oramai tanto quando arriva l'inverno io posso morire pure e quindi bene così si chiude una giornata strepitosa direi tra l'altro è stato bello perché l'hiamo vissuto in tutti i video ogni video dicevo nel pronostico successivo quindi adesso ovviamente è finita la giornata adesso ho fatto di fare lo studio champions insieme col peng quindi adesso dopo ritornerò a fare lo studio intanto però cassa seria portata a casa e andiamo cazzo finalmente qualche fortuna ogni tanto ci vuole ma io non mi contento mai se uno che non si accontenta mai già sta a pensare alle giornate le champions e come a fa cassa e quindi niente ben poco altro a dire questa partita storici non c'è nient'altro eroici chiedertela come mi pare tra l'altro sul 2-0 annullato una squadra poi di capitambola ancora di più di morale invece loro dimostrano che hanno anche una personalità e una forza mentale incredibile perché arriva al talla dopo un 2-0 tra l'altro loro in 10 ti distrugge mentalmente invece il Cagliari non anzi non ha giovato ancora di più a sto gol subito e quindi complimenti a tutti quanti per la partita per la partita anche il Zassuolo non l'ha demeritato perché i primi 20-25 minuti l'ha letteralmente stressati di attacchi e però queste calciavolti quindi anche loro non hanno male come squadra anche se secondo me un po' di scontini comunque il Cagliari secondo me l'ha vinta con i cammi quando Fili entra a Lugumbo ragazzi ce ne è per pochi poi poter poi permettere un attacco con la Padua e Pavoletti top per me almeno per me ovviamente parlo per le squadre medio-bass classica ovviamente ce ne è meglio però niente c'è in realtà di partita che ha regalato emozioni incredibili a un certo punto mi scendono anche le lacrime perché sono una persona molto emotiva quindi ero contento stracontento non tanto per la cassa ma per mister Ranieri che è incredibile ciò che fa è incredibile fa miracoli sopra miracoli e quindi niente appuntamento alla prossima giornata potrò avere fare un video anche sulla Champions sulle pari delle Champions e quindi niente appuntamento alla prossima di partita di partita di partita Grazie a tutti.